Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo sino alle ore 18 di venerdì 6 luglio per lavori di manutenzione troverete il restringimento di carreggiata attivo nel tratto compreso tra gli svincoli con Tursi e Sicignano degli Alburni in entrambi i sensi di percorrenza. Sempre su quest'arteria si procede inoltre a carreggiata ridotta sino alle ore 6 di sabato 21 luglio nel tratto compreso tra le uscite, battipaglie e contursi ancora in entrambe le direzioni. Qui i lavori vengono però effettuati in tratti saltuari. Lavori notturni sulla statale 145 Sorrentina dalle 22 di stasera e sino alle ore 6 di domani mattina è attivo il senso unico alternato in località Seiano. Sino alle 17 del prossimo 13 luglio invece sulla statale 268 del Vesuvio troverete chiuso il tratto compreso tra le località Ottaviano, zona industriale ed Ottaviano Centro in direzione del capoluogo partenopeo. Sino al prossimo 1 agosto invece sulla statale 372 Telesina nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18.30 ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi c'è il senso unico alternato attivo tra il casello di Cajanello della 1 Roma-Napoli e l'allacciamento con la statale 87 Sannitica. Anche qui i lavori sono effettuati in tratti saltuari. Infine ci spostiamo a Napoli. Vi ricordo che sino al prossimo 31 agosto la funicolare di Mergellina resta chiusa al pubblico. Sul percorso Manzoni-Mergellina è attivo un servizio sostitutivo su gomma mediante l'autolinea 621 dell'ANM. È tutto dalla redazione Muoversi in Campania. Un saluto da Gigi Gallo. Grazie. 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 Grazie.